eccoci rientrati amici di di pomeriggio come abbiamo già annunciato prima è qui con noi un gradito ospite il sindaco di Campi Federico Agostinelli benvenuto sindaco grazie ben ritrovato allora abbiamo un po' l'obiettivo di raccontare i comuni del nostro territorio della nostra bellissima regione oggi Campi apre un po' questa nuova stagione di di pomeriggio Campi uno dei borghi più belli d'Italia tantissime le tradizioni del suo comune lei si trova al secondo mandato ovviamente sono iniziato in un po' di mesi è iniziato in un po' di mesi il lavoro per il secondo mandato come sempre è un momento di transizione perché si chiude il primo anche soprattutto con i progetti visto che voi avete anche subito la questione covid che vi ha un po' rallentato esattamente abbiamo da poco iniziato il secondo mandato dopo aver ottenuto un largo consenso alla scorsa tornata elettorale che ha premiato il grande lavoro che abbiamo fatto durante tutto il primo mandato un mandato come giustamente ricordato segnato dal covid ma anche dall'emergenza della sisma che comunque è un'emergenza che è tuttora in corso e che il primo mandato ha visto proprio un impegno forte da parte dell'amministrazione comunale è l'idea di riprogrammare i prossimi cinque anni in cui ovviamente sono tanti progetti iniziati già nel corso del primo mandato che vogliamo realizzare far vedere e consegnare alla cittadinanza per dare una veramente svolta importante al nostro territorio lei ha parlato di svolta ovviamente partiamo un po' dalle basi le basi ovviamente rappresenta la questione della ricostruzione un po' del migliorare di servizi che ci sono all'interno dei comuni e questo tra questi progetti c'è soprattutto la scuola perché voi state portando avanti un importantissimo progetto assolutamente sì la scuola è la ricostruzione anche post sisma soprattutto di castelnuovo ricordo a tutti che stiamo ricostruendo proprio un intero quartiere che vogliamo appunto chiudere nel corso dei prossimi mesi proprio perché vogliamo portare tante persone di nuovo a vivere a campi soprattutto il nostro centro storico dare ancora più vitalità oltre quella che stiamo dando non solo con i tanti tanti eventi che organizziamo durante l'estate ma anche attraverso una serie di iniziative che portiamo avanti per tutti i mesi dell'anno ma ovviamente abbiamo questo grande obiettivo di realizzare questo volo scolastico che dovrà comunque essere un polo scolastico che porterà anche da questo punto di vista campi alla ribalta ci sono stati sicuramente dei problemi da questo punto di vista come spesso capita quando si deve realizzare un'opera così importante però stiamo creando appunto le basi e i presupposti per poter iniziare i lavori e realizzare allotti questo polo scolastico che sorgerà in località nocella che unirà poi le comunità di campi e di campo valano e formerà appunto questo blocco scolastico insieme al polo di marrocchi che dovranno poi essere un fiore all'occhiello del nostro comune per i prossimi decenni per quante persone per quanti studenti è prevista questa struttura la struttura sarà molto grande avrà degli spazi importanti verrà costruito una palestra scolastica e ovviamente dovrà essere sufficiente per contenere non solo tutti gli studenti che andranno poi il polo scolastico ma anche per una serie di attività e iniziative che vorremmo fare in un'area che sarà completamente nuova completamente urbanizzata verde perché questo è una caratteristica del nostro polo che è assolutamente un polo sostenibile appunto come si costruiscono adesso i nuovi poli scolastici e riuscirà a contenere appunto tutti gli alunni delle scuole elementari e delle scuole medie il campi è una comunità molto importante anche per il turismo comunque ogni anno sono migliaia e migliaia le persone che vengono a visitare il suo territorio c'è veramente tanto da vedere ovviamente parlando da Scala Santa ma sono anche le chiese ultimamente avete revertito proprio una chiesa importante sì proprio la scorsa settimana è stata reperta la chiesa a Sant'Odofrio in piazza eh che era chiusa da otto anni eh ne apriranno delle altre nei prossimi eh nelle prossime settimane nei prossimi mesi eh sono tutti segnali di una ripartenza di una vivacità che torna all'interno del nostro territorio che poi eh fungono e sono importanti per fare turismo un settore nel quale abbiamo fortemente puntato con l'amministrazione comunale dall'inizio quando siamo eh arrivate ad amministrare il nostro comune che vogliamo comunque migliorare implementare attraverso una serie di novità anche che stiamo eh appunto mettendo in campo che porteranno eh l'ampliamento dell'offerta turistica non solo al centro storico non solo al turismo religioso ma anche negli ultimi anni un grande sviluppo della nostra montagna nei nostri monti gemelli che abbiamo ampiamente promosso abbiamo aperto sentieri grazie anche alla collaborazione con il CAE Val Vibrata che ha sede proprio a Campli e eh sono partiti proprio in questi giorni i lavori per il nuovo parco avventura che eh sorgerà anche a Campli e che vedrà tantissimi ragazzi bimbi venire anche sul nostro territorio per divertirsi e implementare appunto quella che è l'offerta turistica attraverso anche un eh un'area eh picnic accessibile anche di sabbi abbiamo comprato delle giolette elettriche che possono essere avete inaugurato anche un'area camper appunto un'area camper che è contrariamente alle aspettative di qualcuno sembrava ecco quasi eh non indispensabile per il nostro territorio e invece devo dire che da quando l'abbiamo aperta eh ormai sono passate diverse diverse settimane eh ogni sera ci sono camper che eh appunto soffriscono di quest'area camper a testimonianza del fatto che poi quando qualcosa la si fa e la si fa bene eh poi anche i piccoli comuni dell'entroterra hanno una loro offerta una loro ricettività e devo dire che su questo grazie anche al canale che hanno i camperisti dove promuovono e fanno recensioni davvero molto eh buone per quanto riguarda l'area di Campli devo dire che chiunque viene della nostra provincia non solo a Campli in camper prende quell'area come come riferimento dove eh stare rimanere e questo genera anche economia locale perché poi la mattina magari frequentano Campli partono da Campli per le visite di tutto il nostro territorio e credo sia veramente uno degli investimenti più belli che abbiamo fatto nell'ultimo periodo perché avevamo un'area camper completamente inutilizzata in un'area del nostro comune sinceramente poco eh accessibile invece oggi abbiamo questo a questa grande risposta che va a colpare una lacuna che c'è proprio nella nostra provincia perché vedo tantissimi altri comuni che ancora eh non eh attivano la loro area camper e questo poi porta ovviamente eh come dire quei comuni che che invece l'hanno fatto ad avere una recettività diversa e noi su questo credo siamo stati tempestivi nella risposta. State lavorando su un turismo a 360 gradi però possiamo dire che c'è stato un volano anche per il rilancio del turismo culturale ed è stato ed è cittadino onorario di Campli stiamo parlando di Vittorio Sgarbi. Sì siamo partiti con lui tanti anni fa e quando io ero assessore c'era Pietro Cresimare come sindaco conferendogli appunto la cittadinanza onoraria di Campli dopo che aveva portato la una delle nostre opere più importanti la Madonna del Latte a Expo 2015 Padiglione Italia Cultura e da lì in poi si è creato un legame molto molto forte che ha permesso a Campli la scorsa estate di riportare appunto quest'opera insieme a due pali di colamatrice sul nostro territorio mancavano da tantissimi anni oggi sono eh visibili presso la chiesa di di San Paolo che è proprio adiacente alla nostra Scala Santa e questo rapporto appunto con con Sgarbi sia quando era sottosegretario dove c'è stata questa forte accelerazione sia oggi comunque era rappresentato per Campli un valore aggiunto che noi abbiamo saputo cogliere che ripeto ha portato dei risultati concreti nella nostra cittadinanza che poi fa per un punto della cultura del turismo religioso uno dei punti di forza del proprio turismo. State lavorando moltissimo anche per la questione viabilità per migliorare la viabilità? Sì abbiamo fatto tanto negli anni passati perché ci siamo concentrati appunto sulla viabilità provinciale eh mi ricordo che ero consigliere provinciale eh 2018 quando avevamo programmato eh anche se avevo un ruolo magari non non di maggioranza ma ero consigliere provinciale una serie di interventi importanti che poi hanno visto la loro realizzazione nel corso del mandato di Diego di Buonaventura come presidente e oggi stiamo facendo una serie di interventi anche sulla viabilità comunale che ha permesso a Campli di sistemare tanti problemi che avevamo in passato e tanto altro dovremmo fare perché il nostro è un territorio più vasto dell'intera provincia amministrarlo non è semplice eh non abbiamo il nucleo abitativo tutto racchiuso in un'area molto piccola ma lo abbiamo in un'area vastissima ricca di di frazione e quindi eh sicuramente gli interventi devono essere continuativi e tanto abbiamo fatto e tanto dovremo ancora fare da questo punto di vista. È proprio sulla vastità del territorio che mi collego per questa domanda. Le associazioni sono parte integrante per la promozione di un territorio, un territorio molto vasto che comunque ogni anno riesce a offrire veramente tantissime cose, tantissime opportunità non solo ai residenti del territorio Terramano ma anche al di fuori della nostra regione. Tra questo ovviamente le sagre, la porchetta di Campi, ci sono tantissimi di sedere, la sagra di Campovalano comunque è un territorio che si muove, non rimane fermo. Assolutamente sì eh ho la fortuna di amministrare un territorio che ha tantissime associazioni che sono tutte molto attive e noi come amministrazione li supportiamo tantissimo perché eh da soli non riusciremo a fare un calendario onestivo de natalizio importante come quello che eh invece facciamo a Campi proprio perché eh nasce da una sinergia tra comune e associazioni e questo valore aggiunto che abbiamo implementato nel corso degli anni porta appunto tantissime presenze eh sul nostro territorio in occasione delle sagra, in occasione degli eventi che organizziamo anche come amministrazione comunale e questo lo facciamo sempre collegandolo all'aspetto culturale eh del nostro territorio che mettiamo sempre in risalto. Il cambio di passo che c'è stato è stato proprio questo cioè non limitarci all'aspetto culinario della sagra ma cercare in tutti i modi di abbinare quel momento eh così eh frequentato alla possibilità di mettere in evidenza poi quelle che sono le nostre bellezze e su questo credo che insomma sia stato fatto davvero un ottimo lavoro grazie anche alla squadra amministrativa che eh ha lavorato in maniera eh univoca su questo obiettivo sia eh nel mandato con Pietro Carissima Nessina sia nel mio primo mandato nei scorsi cinque anni e devo dire anche in questi eh primi cento giorni del nuovo mandato che la linea che comunque l'amministrazione porta avanti è proprio questa quella di di promuovere il più possibile il territorio portando insieme tutte le associazioni dietro perché questo è il lavoro che ci permette di avere una visibilità maggiore eh non solo in regione ma anche fuori regione poi quando si contribuisce ad ottenere un risultato all'interno della propria regione penso che bisogna essere ancora più soddisfatto abbiamo visto ieri proprio a Rimini che la regione appunto è stata premiata come una delle regioni che ha ospitato più stranieri dal punto di vista turistico eh credo che anche noi nel nostro piccolo ovviamente però abbiamo contribuito a questo risultato perché sono tanti eh gli stranieri che vengono a visitare il nostro territorio a campo. Tra tutte le idee che avete in mente per il secondo mandato ce n'è una in particolare che porterete sicuramente a termine? Ma ne abbiamo tantissime che vogliamo però uno in particolare un sogno nel cassetto che cercherete? Il cassetto eh ovviamente oltre ad avere finalmente eh delle scuole eh assolutamente lì a tempi come sta? Quali sa qual è la deadline? Allora noi abbiamo sia un finanziamento della costruzione del nuovo polo a Nocella sia la costruzione di un asilo nido a San Donofro insieme al miglioramento del momento sismico delle strutture già esistenti in quei in quei plessi ovviamente gran parte della tempistica dipende dalle ditte che lavorano su questi su questi progetti hanno sicuramente delle scadenze ma a volte eh gli imprevisti sono tanti e non sempre tutte le ditte portano avanti i lavori così come da contratto. Quindi speriamo nel corso di un paio d'anni di avere già una situazione scolastica sicuramente eh più consone rispetto a quella attuale e poi c'è questa aspettativa un po' della piscina a campi che è un progetto sul quale stiamo lavorando e che speriamo comunque di poter realizzare anche qui eh nei prossimi anni perché sarebbe un valore aggiunto dal punto di vista di offerta eh sportiva rispetto a quello che abbiamo già tanto fatto nel corso del mio primo mandato dove abbiamo ultimato il campo in erba sintetica abbiamo migliorato gli impianti sportivi di Santo Lofrio stiamo completando i lavori anche la storica area dei Pini che è stato il primo campo eh dove il campo in basket ha giocato in Serie A eh tutti i finanziamenti a fondo perduto che siamo stati bravi a prendere senza l'accensione di mutui e credo che questo sia un altro dato molto importante perché parliamo veramente di somme che si avvicinano ai due milioni di euro e vi assicuro che due milioni di euro quasi due milioni di euro a fondo perduto per un comune delle dimensioni di campi non sono pochi. Sindaco siamo arrivati quasi alla fine di questa intervista l'ultima cosa ovviamente state programmando anche per il periodo periodo natalizio degli eventi. Sì stiamo parlando proprio in questi giorni eh della eh parte legata appunto al Natale dove ovviamente anche quest'anno vogliamo presentare un bel calendario per i nostri concittadini e anche qui siamo sicuramente in contatto con le tante associazioni perché avremo degli eventi molto molto belli anche per il Natale duemilaventiquattro così come abbiamo fatto sempre eh negli ultimi anni proprio prima di entrare in trasmissione abbiamo ricordato una serie di eventi nel corso del primo anno del del mio mandato ne abbiamo veramente realizzati tantissimi eh è stato un momento difficile abbiamo vissuto i primi anni col covid ma anche lì il meglio che abbiamo avuto è stato quello di non fermarci di andare avanti di poter organizzare e rendere quei momenti così difficili più sereni per le famiglie campalesi e non sicuro. Grazie mille al sindaco di Campli Federico Agostinelli che sicuramente ritroveremo nei prossimi mesi un po' per raccontarci fare un po' il punto dei progetti dei tanti progetti che sono in atto a Campli. Sicuramente grazie a voi per aver dato questa vetrina a Campli eh ovviamente vi aspetto numerosi nel mio territorio per visitarlo e per partecipare ai tanti eventi che organizzaremo. E adesso amici ci guardiamo insieme il promo di l'Abruzzo racconta e poi torniamo nuovamente in onda. Grazie mille 2023. Grazie a tutti.